Se ne parlava da settimane ma oggi è arrivata la conferma. Caterina Delbianco, assessora alla cultura e allo sport del comune di Fano, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico per ragioni di carattere personale. Infatti dal 14 settembre scorso ha iniziato ad insegnare in una scuola media della città. La decisione di lasciare la giunta è stata formalizzata questa mattina al termine di una conferenza stampa alla Mediatica Montanari. Dopo sei anni ho iniziato intrapreso il percorso scolastico che è una cosa per cui ho studiato, un percorso lavorativo e direi che mi sembra giusto lasciare spazio ai assessorati importanti cultura e sport a chi ha più tempo perché non riesco a combaciare le due attività quindi colgo anche l'occasione per ringraziare il sindaco, tutti i colleghi di giunta e consiglieri per questi anni, sono stati anni molto belli e validi di lavoro. Nulla è buttato via perché sarà un passaggio di testimone e quindi poi si riprenderanno tutti i temi e non si lascerà nulla in sospeso questo ci tengo a sottolinearlo. Bocche ancora cucite su chi andrà a ricoprire questo incarico il primo cittadino Massimo Seri ha dichiarato di voler prendere alcuni giorni per riflettere prima di annunciare il rimpasto definitivo delle deleghe in giunta visto che potrebbe cambiarne anche delle altre. Intanto si vocifera l'ingresso della consigliera Barbara Brunori già vicepresidente del Consiglio Comunale che alle ultime elezioni aveva ottenuto 272 preferenze arrivando seconda alla del Bianco nella lista civica del sindaco Noi Città. In queste ore si fa anche il nome di Renato Claudio Minardi uno dei grandi esclusi alle ultime regionali che potrebbe in qualche modo tornare nel palazzo civico di Via San Francesco. È stata una compagna di viaggio importante in questi sei anni è stata una scelta sei anni fa giusta oggi con seno di poi ha portato un contributo, si è fatta a benvolere con il suo modo di fare, educato, concreto, senza arroganza e devo dire insomma nel mondo dello sport è stata molto apprezzata lo è tuttora e adesso aveva anche intrapreso questa delega alla cultura con fatica all'inizio ma adesso aveva individuato alcuni percorsi che ovviamente non saranno archiviati, proseguiranno però ecco mi sento di esprimere veramente un caloroso ringraziamento per la collaborazione, per il contributo che ha portato ma anche per l'apporto umano perché dal mio punto di vista è sempre l'aspetto che conta di più. Abbiamo quattro anni davanti, importanti, con delle grandi opportunità che si presenteranno, non possiamo farci trovare impreparati onestamente ci stiamo già lavorando, ci stiamo già adoperando e quindi mi prendo qualche giorno ma saranno veramente pochi giorni.